sii forte e coraggioso perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro solo sii molto forte e coraggioso abicura di mettere in pratica tutta la legge che mosè mio servo ti ha data non te ne sviare né a destra né a sinistra affinché tu prosperi dovunque andrai questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca ma meditalo giorno e notte abicura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese allora prospererai dal libro di giosuè capitolo 1 versetti da 6 a 8 dio ci benedica